Auto in fiamma intorno a mezzanotte in via San Rocco a Fabria. Una Renault Kangoo parcheggiata nella via si è improvvisamente incendiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Levarolo Canavese e Ivrea, i carabinieri di Aglie e il sindaco Vittorio Bellone. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme che sono scaturite dal vano motore, probabilmente a causa di un cortocircuito. Nessuno è rimasto ferito o intossicato in genti danni. Grazie. Grazie.